Segretario, la funzione pubblica è al lavoro, ci sono anche delle polemiche, soprattutto nel ramo medico-sanitario. Qual è la situazione nella nostra regione? Noi non abbiamo intenzione di sollevare alcuna polemica, perché il momento è difficile per tutti e capiamo che ci sono difficoltà. Però, ecco, riteniamo che il personale sanitario che lavora negli ospedali e in tutta la regione debba avere i dispositivi di protezione individuale, altrimenti rischiano quotidianamente la propria salute. Non possiamo trasformare gli operatori sanitari in carne da macello. Questa è una cosa che non possiamo consentire. Quindi chiediamo alle autorità competenti di fornire al personale sanitario i dispositivi di protezione e di sottoporli ai tamponi, perché a volte lo stesso personale sanitario è veicolo di infezione all'interno dei reparti ospedalieri. Poi chiediamo con forza che il personale adibito al Covid-19 non passi da un reparto all'altro, dal reparto Covid, ad altri reparti, perché si è registrato in alcuni ospedali della provincia di Chiedi che questo ha portato le infezioni in altri reparti, con tra l'altro pazienti ricoverati che hanno problematiche già pesanti. Avete avuto un'interlocuzione con l'assessorato alla sanità? L'interlocuzione ci è stata, ma non è stata ufficiale, è stata così sporadica, ma una vera e propria interlocuzione costante che ci consente di dare il nostro contributo. Noi non vogliamo creare problemi, perché i problemi ce ne sono già tanti, però vogliamo adoperarci per dare il nostro contributo alla collettività e ai lavoratori che rappresentiamo.